Benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. Voglio Gesù perdonare le nostre cose, prestando la gira a fuoco di disperno, porta in cielo...